Mille domande da farvi mi vengono in mente, ma perché il tempo è corto, datemi ad intendere il ristretto che sentimenti provaste di corpo e d'animo nel punto della morte. Del punto proprio della morte? Io non me ne accorsi. Come non ve ne accorgeste? Verbi grazia, come tu non ti accorgi mai del momento che tu cominci a dormire, per quanta attenzione ci vogli porre. Ma l'addormentarsi è cosa naturale. E il morire non ti pare naturale? Mostrami un uomo, una bestia o una pianta che non muoia. Io mi pensava che sopra questa faccenda della morte i vostri pari ne sapessero qualche cosa più che i vivi. Ma dunque, tornando sul sodo, non sentiste nessun dolore in punto di morte. Che dolore ha da essere quello del quale chi lo prova non se ne accorge? A ogni modo tutti si persuadono che il sentimento della morte sia dolorosissimo. Quasi che la morte fosse un sentimento e non piuttosto il contrario. Quando la facoltà di sentire è non solo debilitata e scarsa, ma ridotta a cosa tanto minima che ella manca e si annulla, credete voi che la persona sia capace di un sentimento forte? Anzi, questo medesimo estinguersi della facoltà di sentire, credete che debba essere un sentimento grandissimo? Vedete pure che anche quelli che muoiono di mali acuti e dolorosi in sull'appressarsi della morte, più o meno tempo avanti dell'ospirare, si quietano e si riposano in modo che si può conoscere che la loro vita, ridotta a piccola quantità, non è più sufficiente al dolore, sì che questo cessa prima di quella. Agli epicurei forse potranno bastare coteste ragioni, ma non a quelli che giudicano altrimenti della sostanza dell'anima, come ho fatto io per lo passato e farò da ora innanzi molto maggiormente, avendo udito parlare e cantare i morti. Perché, stimando che il morire consista in una separazione dell'anima dal corpo, non comprenderanno come queste due cose, si possano separare senza una grandissima violenza e un travaglio indicibile? Dimmi, lo spirito è forse appiccato al corpo con qualche nervo o con qualche muscolo o membrana che di necessità si abbia a rompere quando lo spirito si parte? O forse è un membro del corpo in modo che n'abbia essere schiantato o reciso violentemente? Non vedi che l'anima intanto esce di esso corpo, in quanto solo è impedita di rimanervi e non va più luogo? Non già che per nessuna forza che ne la strappi e sradichi? Dimmi ancora, forse nell'entrarvi, ella vi si sente conficcare o allacciare gagliardamente o come tu dici, conglutinare? Perché dunque sentirà spiccarsi all'uscirne? O vogliamo dire, proverà una sensazione veementissima? Abbi per fermo che l'entrata e l'uscita dell'anima sono parimente quiete, facili e molli. Sappi che il morire come l'addormentarsi non si fa in un solo istante, ma per gradi. Vero è che questi gradi sono più o meno e maggiori o minori secondo la varietà delle cause e dei generi della morte. Nell'ultimo di tali istanti la morte non reca né dolore né piacere alcuno, come né anche il sonno. Negli altri precedenti non può generare dolore perché il dolore è cosa viva e i sensi dell'uomo in quel tempo, cioè cominciata che è la morte, sono moribondi, che è quanto dire estremamente attenuati di forze. Può ben essere causa di piacere, perché il piacere non sempre è cosa viva, anzi, forse la maggior parte dei diletti umani consistono in qualche sorta di languidezza, di modo che i sensi dell'uomo sono capaci di piacere anche presso all'estinguersi. Atteso che spessissime volte la stessa languidezza è piacere, massime quando vi libera da patimento, poiché ben sai che la cessazione di qualunque dolore o disagio è piacere per sé medesima. Sicché il languore della morte debbe essere più grato secondo che libera l'uomo da maggior patimento. Per me, sebbene nell'ora della morte non posi molta attenzione a quel che io sentiva, perché mi era proibito dai medici di affaticare il cervello, mi ricordo però che il senso che provai non fu molto dissimile dal diletto che è cagionato agli uomini dall'anguore del sonno nel tempo che si vengono addormentando. Ora ditemi, nel tempo della morte, mentre sentivate quella dolcezza, vi credeste di morire e che quel diletto fosse una cortesia della morte, oppure immaginaste qualche altra cosa? Finché non fui morto, non mi persuasi mai di non avere a scampare di quel pericolo, e se non altro, fino all'ultimo punto che ebbi facoltà di pensare, sperai che mi avanzasse di vita un'ora o due, come stimo che succeda a molti quando muoiono.